Come potete vedere ho trovato un launcher abbastanza interessante che ha l'aspetto simile ad Ubuntu Questo launcher a mio parere è davvero pratico infatti qui ho personalizzato e inserito le app che uso di più come le mail, facebook, il web e altre applicazioni Inoltre con lo slide è possibile visualizzare tutte le applicazioni Ovviamente le applicazioni non sono scombinate come sulla TouchWiz ma sono ordinate per categorie ad esempio comunicazione, internet, giochi, multimedia, accessori Devo dire che questo launcher è davvero veloce e può essere personalizzato in tanti modi Per installare il tema basterà installare lo Smart Launcher e il tema di Ubuntu Per maggiori info potete trovare il link in descrizione Grazie! 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 Grazie!